Il nuovo centro revisioni effettua la pre-revisione gratuita e la revisione a tutti i veicoli con portata massima di 35 quintali. Auto, moto, quad, ciclomotori, motocarri, prenotali allo 080 474 49 89 o chiama il 340 94 84 158. Nuovo centro revisioni di Palazzo Giovanni, via Martiri di Marzabotto 2, alla Sciala delle Cozze, a Mola di Bari. Allora, buonasera a tutti, io sono Cristiano Marti, l'editore di Giardina Scritture e editore di questo libro, I Pinerari Matematici in Puglia, di Sandra Lucente, che presentiamo oggi presso la libreria Culture Club Cafè di Mimmo Sfarno. Questo è un libro molto particolare che sta avendo un enorme successo a livello nazionale perché racconta la Puglia in un modo come forse mai nessuno è riuscito a fare. Questo libro ha come protagonista Paul, che è un turista immaginario, che arriva in Puglia e dalle isole Tremidi fino a Santa Maria di Leuca racconta in chiave matematica i paesaggi, le architetture, le tradizioni, le chiese di comuni grandi e piccoli della Puglia. Per questo è un libro affascinante ovviamente, oltretutto è anche presente Mola di Bari, questo lo dico a chi di Mola segue Mola di Bari TV, quindi stasera la presentazione e quando volete potrete trovare questo titolo presso la libreria Il Culture Club Cafè. Grazie e buona lettura a chi vorrà prendere questo libro. Grazie a voi. di essere venuti stasera, io sono Cristiano Matti, sono l'editore di Giardina Scritture che ha deciso di pubblicare il libro di Santa Lucente, è vero che stanno finendo le cose, tanto che arriva il libro, questa è stata una bella scommessa perché è un libro che sta rispondendo tanto successo e curiosità tra pubblico pastistico che onestamente io personalmente non ho pensato di Giardina Scritture perché avevo deciso di pubblicare questo libro che è il primo della collana di divulgazioni pensando di creare un'offerta per gli amanti della divulgazione matematica ma anche possibilmente anche per le scuole, mai avrei pensato che questo libro sarebbe finito tra le mani di tanto ovviamente amanti della virtù, ma anche curiosi che grazie a questo libro hanno scoperto delle curiosità e... ciao! No, sto inizialmente, sono molto contento! Non avrei mai pensato, dicevo che questo libro avesse suscitato curiosità tra chi ha avuto modo di scoprire la Puglia in un modo assolutamente diverso, questo libro ha come il protagonista Paul che è un budista matematico, un budista immaginario che arriva, Sandra sa perché, come in Puglia, e decide di girarla in un po' in largo e dalle isole Trento, insomma, fino alla stanza meravigliosa, lui si gira capoluoni grandi e piccoli comuni e racconta dei particolari e quindi non mi ha spiegato, 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 che effettivamente l'essere è un diario di viaggio. Se forse è stato fatto, come? Diario di viaggio da una parte e poi appunti per i più curiosi o docenti o che è, dall'altra, sarebbe stato proprio un diario di viaggio per metà e uno strumento di gattico da un'altra vera. Noi abbiamo preferito, io ho avuto questa immensa fortuna, sul libro, di avere carta bianca da cristiano. Diciamo, quando mi ha chiesto, perché lei mi va in questo libro, perché io facevo solo conferenze su queste cose, non avevo sentato la parte di quello, quando lui me l'ha chiesto non sapeva due cose. La prima, io sono recattata ogni regola, quindi non dando ogni regola mi ha trovato, diciamo, molto più facile il mio libro. La seconda, c'è, diciamo, anche, non scompetente, si metti in questa maniera. Quindi io, in realtà, sono stata portata poi a partire con, non spiegate solo la matematica, no, queste le battute, le innamorate, le comprate su di nirlo, ma è quello che fa chiunque quando piangia. Quindi, si può fare una lettura che è i 30 racconti che possono sembrare 30 giornate di Polo in Tuglia. Quindi, una lettura come racconti, ma anche fatti, perché non sono fatti in modo sequenziale. Si può fare una lettura come dire al viaggio, si può fare una lettura come un libro di Puglia Dio, perché io leggo il racconto, e poi leggo i quattro esercizi, stimoli, non so, che ho abbinato, perché non volevo appena dire il racconto, perché volevo che, sia più appassionato in animatica o nelle scuole, si utilizzasse. Però, non c'è messo le tante, questo libro, può leggere Chidattica della Puglia, lo può leggere, sia passiamo in matematica, lo può leggere una studente di liceo, lo può leggere un dolente, per inventarsene anche. Adesso, che devo dire, su, come dire, la diffusione dei siti, lo sono molto più tranquilli, le due copie che volevo fare io, non le ho sistemate, ma che è una... Adesso, che abbiamo questa sistemazione, la diffusione dei siti, per me è interessante, per quello c'è la mia chissatea, capire se poi c'è uno strumento per i docenti, perché il mio interesse è anche capire come appassionare la matematica e come aiutare i docenti a portare questa appassionazione. Quindi, diciamo, a un pubblico molto netto, per esempio, un po' più attenzione, un po' più giusto, che interessa matematica, un po'. Una di una, ma lui, con queste cose. In matematica, si utilizza la O, la O con alcune studi, l'idea, l'acqua, no? E' un po' più attenzione, una paesa di matematica, è un po' più attenzione da un insegnante di matematica. Vedete, i ragazzi, non pensi che la missione di matematica è già benissimo. Questo percorso, quindi, pensando a fare una rinforzazione, non è una cosa più attenzione, cioè che questa è una cosa molto importante, perché la rinforzazione è una scelta, una scelta molto artistica, e nello stesso tempo è con l'aggiunta e l'impegnafici. L'impegnafici è un impegno di matematica, gli amici, i 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 amici, e l'impegnafica, non semplice, cioè trasmettene a grande tutti, qualcuno dice che la matematica, però stando a parte della scelta è la stessa parte mondiale prossima e soltanto non è la tecnici elettrica, ma l'elemento principale è il fatto di raccontare così e questo è un modo di divertirsi quando racconta la matematica arriva dall'altra parte perché la gente si diverte e si appassiona nella matematica. Sono un'insegnante di matematica che mi dica un occhio perché uno dei problemi che abbiamo è quello di far portare il bello della matematica e la matematica resta per la matematica digitale, una cosa che potete essere a voi, una cosa che c'è a scuola, una volta che finisce la scuola non si tratta completamente diversa e quindi questo libro aiuta diciamo noi, io non ho un po' la sperimentazione perché non è quasi proprio la matematica, ma per la prima sono particola, particolarmente non leperà contare in pieno di sfidenza. C'è la musica perché vedi a canta è un pubblico di partecipanti, quindi scoprireci anche un libro interdisciplinare dove ci sono tanti libri per approfondire per approfondire anche artisti locali, cugliesi, anche un po' di anelli più storici che mi è tutta molto. Io spero molto questa cosa, nel senso che io ho fatto una scelta anche molto tecnica, non mi hanno detto che se io ho matematica, però ho fatto una matematica giudicializzazione, prende i modici, tutto parla di una matematica, perché ci sono proprio contatti lunghi, è illegibile. Ad un certo punto, dopo 20 anni, diciamo, di ricerca, ho capito che le nuove idee nella matematica potranno, ma di tutta scelta, potranno nascere se si tornerà a un approccio molto più piccolico. Per i pitagori, per il testo, per la storia, la matematica non è la mia amministrazione. La matematica è insieme alla musica, la economia, in una certa fase storica, dopo è stata più insieme, a volte c'è una matematica di scelatura, di scelta. La matematica è stata insieme, adesso torna insieme alla gestione dei dati, no? Io, in ricerca della matematica, niente, potremmo fare, non perlomeno un banco, ma non potremmo avere le informazioni dei dettagli, dei dettagli. Allora, saremo tutti veramente di scelta di scelta di scelta di scelta di scelta di scelta. Allora, questo libro è un'interfezione di cuore. Poi, dal mio esperienzo, l'esperienza di persone che hanno viaggiato, di girato, quindi non interseco anche la società di ingegneria o con l'informanza, e quindi non interseco anche la storia, la storia, la storia, la storia, la storia, la...